Salve amici, sono Andrea di Solo Horror e vi do il benvenuto in questa nuovissima rubrica. Come potete vedere sarà molto diversa dai soliti video che vedete sul canale, ma vi assicuro che sarà altrettanto inquietante. L'idea di questa rubrica è sorta perché sotto ogni mio post video horror c'è sempre qualcuno che commenta scrivendo Eh ma queste cose succedono solo in America, quindi ho pensato di dimostrare una volta per tutte che non è per niente così. Perciò vi racconterò uno scioccante caso di true crime italiano in ciascun episodio. Ogni caso sarà ambientato in una diversa regione d'Italia, proprio per dimostrare che anche la storia della nostra penisola è avvolta dal terrore. Per cominciare il nostro sanguinoso viaggio italiano ho deciso di partire proprio dalla regione in cui vivo io, la Valle d'Aosta. E per farlo ho intenzione di parlare di un uomo di cui non parla mai nessuno, ma la cui storia è davvero disturbante e affascinante. Si tratta di Andrea Matteucci. Adesso quindi mettetevi comodi, prendete qualcosa da stuzzicare e iniziamo. Andrea Matteucci nasce a Torino il 24 aprile del 1962 e da subito la vita sembra avercela con lui. Nasce infatti da una famiglia particolare diciamo. Il padre biologico abbandona la sua famiglia quando Andrea ha solo due mesi di vita, perciò non fa nemmeno in tempo a conoscerlo. La madre invece, una donna di nome Maria, fa la prostituta in casa e per questo molto presto decide di lasciare Andrea in affidamento alla sorella. Così, il bambino va a vivere a Foggia, dalla zia, dove rimarrà fino ai 5 anni, per i primi anni della sua vita quindi. Lui è stato convinto che sua madre fosse quella donna con cui viveva e con cui si trovava molto bene, ma in realtà non lo era. Nonostante questo però, la zia gli vuole bene e non gli fa mancare nulla, perciò azzarderei di dire che questo sarà il periodo più felice della vita di Andrea. Esatto, perché quando ha 5 anni, la sua madre biologica si fa viva dal nulla e di fatto rapisce il bambino e lo porta con lei ad Aosta. Immaginate il trauma che deve aver subito dopo un fatto del genere. Insomma, questa donna per Andrea è una sconosciuta che lo ha rapito e afferma di essere sua madre, sicuramente un evento molto traumatico per un bambino di 5 anni. Ma oltre a ciò, la signora Maria non solo si comporta in modo irresponsabile rapendo il suo stesso figlio, ma decide anche di abbandonarlo in un istituto religioso per non averlo tra i piedi. Il piccolo Andrea quindi vive lì fino ai 9 anni, poi viene mandato in un altro collegio. In questi luoghi in realtà si è sempre trovato bene e non ha mai causato molti problemi. Era un bambino molto timido, introverso ed educato, ma durante le scuole elementari deve comunque tornare a casa da sua madre tutte le sere. Ma viene trattato in un modo disumano dalla donna che lo insulta, chiamandolo coniglio e cagone. Gli continua a dire che è uguale a suo padre, un senza palle, una persona che non sa prendere decisioni e così via, come se non fosse abbastanza poi, per dimostrare che lei era invece una donna coraggiosa e forte. Raccontava spesso al figlio di aver spettato un colpo di pistola alla testa di un cliente e di aver reciso i genitali di un altro che non voleva pagarla. Inoltre gli dice anche di aver tolto la vita al povero cane della vicina, semplicemente perché la infastidiva. Ricordate che mentre avviene tutto ciò, Andrea è ancora un bambino. Quale razza di madre, se così si può definire, farebbe traumatizzare così profondamente il proprio stesso figlio? Ad aggiungersi alla situazione già disastrosa poi, il compagno di Maria che viveva con loro aveva il vizio di riempire di botte il giovane Andrea per i motivi più futili. Quindi in sostanza in questi anni il ragazzo non vuole mai tornare a casa, dato che in collegio sta bene, o quantomeno non viene maltrattato e abusato. Tutti i racconti macabri, l'odio e gli abusi vengono bene impressi nella sua mente. Ma nonostante questo, lui è sempre lo stesso bambino timido e introverso. Però, all'età di 13 anni, scatta qualcosa nella sua mente. Sentendo la costante pressione di dover provare a sua madre e a se stesso di essere coraggioso, decide di commettere il suo primissimo atto criminale. E udite udite, decide di rubare una bici insieme ad un suo amico. Poco prima di farlo però, viene assalito dai sensi di colpa e dalla paura di essere beccato. Perciò chiede al suo amico, che aveva già una bicicletta, di prestargliela. E decide di far commettere il furto a lui, partecipando solo come complice. Questo vi fa capire come l'indole del ragazzo in realtà non fosse per niente criminale. E ancora una volta, infatti, si dimostra il solito Andrea, timido ed introverso. Ma ad ogni modo, una volta rubata la famosa bicicletta, Andrea torna a casa in sella a quella del suo amico. E la reazione del suo patrigno, purtroppo, è peggiore del solito. Questo, infatti, oltre a riempirlo di botte, lo prende per un orecchio e lo trascina per un quartiere di Aosta, urlando a tutto il vicinato, in continuazione, le parole. Andrea Matteucci è un ladro. Ora, pensate a quanto possa essere umiliante un gesto del genere per un ragazzino di 13 anni. Non riesco nemmeno a immaginarlo. Andrea, in seguito a questa vicenda, cade in una sorta di depressione. E comincia lentamente ad avere turbe psichiche. Ossessionato dall'uomo che lo aveva umiliato così tanto, manifesta i primi istinti omicidi. E, sinceramente, ragazzi, sfido chiunque a non averli dopo un'infanzia e dei trascorsi del genere. Per fortuna, però, si contiene in qualche modo e continua a reprimere tutta la sua rabbia. E reprimere le emozioni, sapete bene, non è mai la scelta giusta da fare. E, infatti, quando Andrea ha 14 anni, tenta di rapinare la macelleria dove lavorava usando una pistola scacciacani. Gli amici con cui era, però, si tirano indietro e lui rimase lì da solo per un attimo, prima di decidere di lasciar perdere e andarsene. Ma ancora una volta, solo una settimana dopo, pervaso dal senso di colpa, si costituisce. Da quel momento, quindi, finalmente intervengono gli assistenti sociali che lo prelevano dalla casa di sua madre e lo obbligano a rimanere in una comunità religiosa fino alla maggiore età. E anche qui, il ragazzo si trova bene. Ha un comportamento molto educato e sembra sereno, come immaginerete, però, una volta raggiunti i 18 anni, è costretto a tornare a casa. Nonostante il suo trascorso burrascoso, Andrea prova con tutte le forze ad avere una vita normale e, volendo passare il meno tempo possibile a casa della madre, si trova un lavoro come meccanico a quarte, a pochi minuti da osta. Ma purtroppo, per i primi tempi, è sempre costretto a fare ritorno a casa. E lì, come al solito, la mamma continua a ricordargli quanto fosse un uomo inutile, senza coraggio, un inetto, come il suo vero padre. Chiaramente, quindi, il continuo flusso di umiliazione e violenza, sommato a tutti i traumi e alla repressione della rabbia, ha scatenato in Andrea una voglia impellente di uccidere. Sentiva che questo fosse un modo per dimostrare a se stesso, ma soprattutto a sua madre, che in realtà era un uomo forte, coraggioso e che sapeva prendere da solo le sue decisioni. Insomma, uno sfogo che Andrea riteneva necessario per questo. La sera del 30 aprile 1980 esce per le vie del centro di Aosta per stare il più lontano possibile da quel mostro che chiamava madre e, nei pressi dell'arco d'Augusto, incontra uno stimato commerciante di nome Domenico Raso. Una cosa che devo specificare è che negli anni 80 questa zona di Aosta veniva utilizzata come una sorta di punto d'incontro per le persone omosessuali. In poche parole, andavano lì in cerca di un partner con cui avere rapporti sessuali in totale segretezza. E in segreto, infatti, Domenico Raso era omosessuale. Aveva una moglie e dei figli, ma come sapete, in quell'epoca, purtroppo, essere omosessuali era molto più pericoloso di oggi. Per questo, molte persone si sentivano costrette a nascondersi dietro una finta famiglia. Ma ad ogni modo, Domenico incontra Andrea e, trovandolo molto attraente, gli chiede di appartarsi dove nessuno li avrebbe visti. E qui, ragazzi, ho trovato due fonti discordanti, perché in qualche articolo viene detto che i due si sono incontrati all'arco di Augusto, mentre in altri viene detto che fossero vicino al teatro romano. Insomma, erano in uno di questi due luoghi, entrambi in centro città. E Andrea accetta di appartarsi con Domenico. Ma una volta lontani da occhi indiscreti, Andrea scatena la sua ira, colpisce Domenico con un pugno, poi lo prende dai capelli e lo colpisce con un coltello da Boy Scout, che gli rimane incastrato tra due vertebre. Poi, in preda ad un incontrollabile raptus, cerca di sfilare il coltello, ma non ci riesce. Quindi decide di andarsene. Ma Domenico inizia ad urlare molto forte per via del dolore lancinante. Quindi il nostro Andrea viene ancora una volta pervaso dalla paura di essere beccato. Perciò, torna sul luogo e con una forza disumana, sfila il coltello dalle vertebre dell'uomo e inizia a colpirlo ripetutamente. Si ferma solo quando, agonizzante, Domenico pronuncia le sue ultime parole. Basta. Sono già morto. Sentite queste inquietanti parole. Andrea si ferma, si allontana e getta il coltello nel primo cassonetto che trova. Incredibilmente, nei giorni seguenti le indagini non riescono a risalire ad un colpevole. E quando gli articoli di giornale rivelano che Domenico avesse dei figli, Andrea inizia a disperarsi e ancora una volta viene sommerso dai sensi di colpa. È sconvolto da ciò che ha fatto e inizia ad avere degli incubi terribili. Ma questa volta decide di non confessare e intanto riceve la lettera del servizio militare. Quindi parte e scopre che gli piace fare il militare. In quel periodo, ovviamente, sviluppa una forza fisica decisamente importante e al termine del servizio viene congedato come caporal maggiore. Siamo quindi nel 1982 e una volta tornato ad Aosta, Andrea conosce una ragazza che sposerà poco dopo, nell'83. I due vanno a vivere insieme prima a Saint-Pierre, poi a Sarre ed infine a Villeneuve. Tutti i paesi molto vicini ad Aosta. Inizia a lavorare in un negozio di alimentari e nel 1987 ha il suo primo figlio. La sua vita, quindi, sembra finalmente andare per il verso giusto, in maniera serena e del tutto normale. Dopo qualche anno, però, Andrea lascia il suo lavoro e decide di avviare una propria attività come scalpellino, aprendo un laboratorio ad Arvie. Ma il lavoro non va come avrebbe sperato e i guadagni iniziano ad essere sempre di meno. Questo porta frequenti litigi con sua moglie, durante i quali lei lo mortifica perché non guadagna abbastanza. Perciò, Andrea, ancora una volta, si ritrova ricoperto d'odio e di insulti, da qualcosa che alla fine non dipendeva neanche da lui. I due comunque provano a rimanere insieme perché hanno un figlio, ma nel farlo, l'uomo deve continuare a sopprimere tutte le sue emozioni, finché un giorno non decide di sfogarsi. È una sera del 1992 e Andrea incontra a Brissonio una prostituta torinese di nome Daniela Zago. Decide di caricarla sul suo furgoncino e quindi i due si appartano e provano a fare l'amore. Ma qualcosa non va sotto i pantaloni di Andrea. Lei quindi diciamo che glielo fa pesare e gli mette fretta dicendogli che se non avesse funzionato l'avrebbe dovuta riportare sulla strada perché le stava facendo perdere tempo. Lui amareggiato le chiede se potessero almeno parlare un po' per sfogarsi un minimo riguardo la sua situazione. Ma lei rifiuta e sotto le insistenti pressioni della ragazza la riaccompagna dove l'ha prelevata. Andrea però non riesce a togliersi dalla testa ciò che era appena successo. Inizia a pensare che le donne che vendono il proprio corpo siano tutte uguali, proprio come sua madre. Secondo lui a loro non interessava dei suoi sentimenti. Erano come un cancro che andava curato a tutti i costi. Qualcosa scatta in lui. È ancora infastidito da ciò che era successo. Qualche ora dopo torna indietro e con una scusa le chiede di riprovarci. Daniela allora sale nuovamente sul furgoncino e parte insieme all'uomo verso un posto appartato. A questo punto Andrea le fa una strana domanda. Le chiede Daniela, hai figli? Lei risponde di no. Allora Andrea tira fuori una sua pistola a spara chiodi, la punta alla nuca della donna e spara un colpo. Questa strana domanda che ha posto prima di colpirla è legata al fatto che l'uomo non volesse lasciare un bambino senza la madre. Odiava profondamente il lavoro e la vita di quella donna ma non avrebbe sopportato di strappare via la madre ad un bambino innocente. E questa cosa ragazzi è quasi come una legge per Andrea. Ma tornando a noi diciamo che c'è stato un piccolo problema dopo lo sparo. Daniela infatti non perde la vita. Rimane solo gravemente ferita e terrorizzata. Supplica Andrea di portarla all'ospedale il più in fretta possibile. E lui dice che lo farà. Ma quando mette in moto si dirige verso un posto appartato. Si ferma, finge di aiutarla a scendere dall'auto. Ma poi le spara nuovamente la testa. E questa volta la povera Daniela muore sul colpo. Andrea poi si rende conto che la donna aveva con sé dei gioielli. E dato che prima di uscire aveva litigato con la moglie decide di prenderli e regalarglieli per farsi perdonare. Quindi seppellisce il corpo e torna tranquillamente a casa dalla moglie con il suo strano regalo. Adesso ricordate che ogni volta che Andrea commetteva qualsiasi tipo di crimine si sentiva in colpa, giusto? Invece questa volta, in cuor suo, senti di aver fatto una scelta giusta. Di aver contribuito a guarire quel cancro che secondo lui infetta il mondo. In sostanza, ha rivisto sua madre in Daniela. Per questo il fatto di toglierle la vita non lo ha scosso per niente. Anzi, si sentiva bene. Libero da un peso. L'unica sua preoccupazione era quella di essere scoperto. Per cui circa un mese dopo l'omicidio decide di disotterrare il corpo. Lo fa a pezzi e lo porta nel suo laboratorio ad Arvie, dove lo brucerà dentro un bidone. Ciò che rimane di Daniela, quindi, ormai è solo cenere. E per dimostrare quanto l'uomo disprezzasse, quella e tutte le donne come lei getta le sue ceneri in una discarica. Così, come se fosse spazzatura. Quindi, ora che le sue preoccupazioni erano state risolte e la sua rabbia sfogata, Andrea continua tranquillamente la sua vita a Villeneuve. Sempre nel 1992 si separa dalla sua prima moglie e fa un incontro decisamente inaspettato. A Villeneuve, dove vive ancora in un monolocale, incontra il suo padre biologico. Lo stesso padre che lo aveva abbandonato quando aveva solo due mesi. Questo gli spiega che in realtà era stato arrestato e non avrebbe mai voluto lasciare la sua famiglia. Una volta uscito dalla prigione, sarebbe anche andato a casa di Maria a cercarlo. Ma lui non c'era, ovviamente, perché era stato abbandonato dalla madre in quell'istituto religioso. Quindi, Andrea è felicissimo di conoscere finalmente il padre che non aveva mai incontrato. In più, scopre che uno dei suoi genitori gli aveva effettivamente voluto bene. Lo aveva cercato e si era preoccupato per lui. Per questo, Andrea decide di seguirlo in Puglia, dove il padre gli promette di trovargli un buon lavoro. E ragazzi, sembra assurdo, ma il lavoro consisteva nel rubare i camion in Vale d'Aosta e portarli in Puglia, dove suo padre aveva un enorme magazzino in cui li smontava, li ricostruiva e li rivendeva. Insomma, Andrea accetta di seguirlo senza conoscere l'effettivo lavoro che sarebbe andato a fare. Ma comunque, in sostanza, passerà i prossimi anni a fare avanti e indietro tra Aosta e non mi è chiaro se regolarmente andasse a prostitute, ma fatto sta che nel 1994 va a Shambhav, dove ne incontra un'altra. Questa volta si tratta di una donna nigeriana di nome Clara. L'uomo è molto attratto da Clara. Quindi la carica sul furgoncino e la porta ad Arnà, abbastanza lontano da Aosta. Qui hanno un rapporto sessuale completo, ma diciamo che Andrea non si sente ancora soddisfatto. Le chiede quindi la stessa domanda della prima volta ai figli. La donna risponde di no. Allora Andrea decide di metterla alla prova per capire se fosse una donna simile a sua madre. Perciò chiede anche a lei se potessero parlare della sua vita privata. Clara si rifiuta e gli dice di riportarla in strada perché aveva bisogno di lavorare. A questo punto però Andrea si infuria e i due iniziano a litigare. La donna alza la voce sempre di più e in preda ad una rabbia incontrollabile. Matteucci le spara due colpi alla testa. Di cui uno fatale. Nessun senso di colpa. Nessun rimorso. Rimane per un'ora a guardare il cadavere. E capisce di non essere ancora soddisfatto. Quindi abusa ancora una volta del suo corpo. Anche se ormai è senza vita. Comunque dato che non l'avevano scoperto la prima volta decide di portarla a casa sua. Farla a pezzi. E bruciare i resti. Proprio come aveva fatto con Daniela. Questa volta però decide di spargere le ceneri nella Dora Baltea. Quindi un'altra volta è riuscito a sfogare la sua rabbia in qualche modo. Ma pare non essere mai abbastanza. Nonostante avesse ormai tolto la vita a due persone. Le indagini non erano nemmeno partite. Le donne da lui scelte infatti non avevano nessuno vicino a loro che avrebbe potuto denunciarne la scomparsa. Molto spesso poi queste donne non avevano nemmeno dei documenti di identità. Per questo la sua furia omicida era ben lontana dall'essere fermata. Ma fortunatamente accade qualcosa che Andrea non aveva calcolato. Il 10 settembre del 1994. L'uomo è di nuovo in cerca di prostitute. E questa volta si trova a Nus. Ad un certo punto incontra una certa Lucy. Un'altra donna nigeriana. Che convince a salire sul suo furgoncino. Questa volta per qualche ragione l'uomo insiste per portarla a casa sua a Villeneuve. E alla fine lei accetta. E sorprendentemente arrivano a casa e consumano il loro rapporto senza che nessuno si faccia male. Andrea quindi promette di riportarla a Nus. Ma una volta partiti si dirige verso Arvie. Che è dalla parte totalmente opposta. E ormai sapete tutti che ad Arvie si trova il laboratorio dove sono state incenerite le precedenti vittime. Lucy capisce subito che c'è qualcosa che non va. Ed inizia ad agitarsi. Presa da una paura mai provata prima. Ad un certo punto non ben chiaro nel tragitto. Andrea prova a soffocarla usando un cuscino. Ma la donna si divincola e riesce a liberarsi. Allora prova a fare la stessa cosa con uno straccio. Ma anche stavolta fallisce. Lucy quindi incredibilmente riesce ad aprire lo sportello del furgoncino. E scappa terrorizzata. Questa volta quindi una sua vittima era sopravvissuta. E lo aveva visto chiaramente in volto. Quindi per fortuna denuncia tutto alla polizia. Ma anche questa volta le indagini non portano a molto. Anzi diciamo che la donna non viene presa nemmeno troppo sul serio. O almeno io ho capito così. Perciò il nostro Andrea può continuare quasi indisturbato il suo operato. Nel frattempo infatti alla fine del 1994 si fidanza con una ragazza di nome Anna. Conosciuta a Terlizzi. E decide di trasferirsi definitivamente insieme a lei ad Aosta. Ma le cose iniziano ad andare male molto presto. E la sua rabbia che è sempre presente cresce in lui ogni giorno di più. Ma poi nell'aprile del 1995 viene beccato dagli agenti mentre guidava un'auto rubata. Ma usando i benefici di legge ha il solo obbligo di non muoversi dal perimetro tra Arvie e Aosta. E deve anche firmare ogni giorno presso la caserma di Pont Saint-Martin al confine con il Piemonte. Ma nonostante questo il 12 maggio del 1995 torna ad uccidere. Questa volta incontra una prostituta albanese di nome Albana. Dopo una breve contrattazione lei accetta e lo segue in una stradina isolata. Dove i due hanno un rapporto sessuale completo. Andrea la paga e poi la riporta sul luogo di lavoro. Alle 18 però dopo qualche ora ritorna da Albana. Perché con lei si è trovato bene. Gli sta simpatica. E come al solito vuole metterle alla prova. Albana quindi sale di nuovo con Andrea e i due si appartano ancora. Questa volta però Andrea le chiede come di consueto di parlare un po'. Lo fa perché vuole ricredersi. Vuole cambiare opinione sulle prostitute. Magari se una di loro si fosse comportata bene e lo avesse ascoltato avrebbe potuto risparmiarle la vita. Ma anche questa volta la donna inizia ad avere fretta. Ad arrabbiarsi e a voler tornare sul luogo di lavoro. Andrea però non vuole lasciarla andare così. La donna quindi comincia ad urlare e lui le tira uno schiaffo. La spinge fuori dal furgone e la colpisce alla testa con una chiave inglese. Albana cerca di difendersi ma senza successo. Matteucci allora torna nel furgone, prende un coltello e la colpisce cinque volte. Vedendo che era ancora in vita infine decide di sguazzarla. Carica poi il cadavere nel suo furgone, va a fare il pieno di benzina con il corpo ancora nel cassone e poi si reca in caserma a Pont Saint-Martin per firmare il registro. Come vedete questa volta Andrea si è spinto decisamente oltre. Sembrava di voler provare il brivido del rischio di essere beccato. Altrimenti non sarebbe di certo andato in caserma con un corpo nella sua auto. Ci vuole proprio un bel coraggio per fare una cosa del genere. E adesso infatti si sente coraggioso, forte e deciso. Tutto ciò che la madre gli rimproverava di non essere. Ma attenzione amici, non finisce qui. Dopo aver firmato in caserma, torna a casa sua a Villeneuve dove sistema il corpo di Albana e rimane sette lunghissime ore a fissarlo. E dopodiché, indovinate che cosa fa? Ne abusa, anche questa volta. Dopo questo gesto malsano, abbandona il cadavere e parte per Terlizzi per una consegna. Ritornerà soltanto cinque giorni dopo. A quel punto la fa a pezzi e la incenerisce nel solito luogo ad Arvie. Questa volta però, per fortuna, il protettore di Albana ha visto che veniva caricata a esanime nel furgone di Matteucci. Riesce quindi a prendere il numero di targa e invia una lettera anonima alla caserma di Pont Saint-Martin. Il 26 giugno del 1995, quindi, Andrea viene finalmente arrestato. Inizialmente dice di aver visto Albana la sera della scomparsa, ma smentisce di averla uccisa. Poi, il giorno dopo, viene di nuovo interrogato e confessa parzialmente. Dice di averlo fatto, ma per errore. Dalle innumerevoli contraddizioni salta fuori anche l'omicidio del 1980. E poi, alla fine, crolla e racconta tutto. Ogni minimo dettaglio. E tutto quello che vi ho raccontato, infatti, è trapelato proprio grazie alle sue testimonianze. Al processo, Andrea Matteucci viene considerato persona socialmente pericolosa e in preda a disturbi psichici. Lo definiscono semi-infermo di mente per via di un difetto genetico e per il contesto assolutamente disumano in cui era cresciuto. Viene condannato il 16 aprile del 1996 a 30 anni di ospedale psichiatrico giudiziario. La cosa che però mi fa venire i brividi è che Matteucci è uscito dal carcere nel 2017 ed è stato trasferito in una struttura sanitaria non ben definita. Sapete, abitando qui e conoscendo tutti i luoghi di cui abbiamo parlato, parlare di questo caso non è per niente semplice. Ma ora che conoscete tutta la storia, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento. E prima di salutarvi ci tenevo a ringraziare tantissimo Bugalalla, una ragazza che su Twitch ha parlato di questo caso in maniera davvero approfondita e professionale. Ed è stata per me di grande ispirazione. Ciao per soncione dell'horror, sono Bugalalla Crime e ringrazio voi e infinitamente Andrea per avermi citato nel suo video. Grazie infinite per aver guardato e grazie mille se volete passare da me. Un bacione giallo! Io spero tantissimo che questa rubrica vi piaccia, quindi fatemi sapere tutto ciò che pensate e ovviamente ditemi anche se vorreste che la continuassi oppure pensate che sia meglio di no. Detto tutto questo ragazzi, vi ringrazio infinitamente per la visione e come al solito, io vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Grazie mille! Grazie mille!